Posso soltanto adorarti e dare la vita mia per te, il desiderio del cuore mio è fare la tua volontà, la tua grazia mi basta e il tuo amore travolta. Deuteronomio capitolo 28 versetti 1 e 2 dice ora se tu bidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do il Signore il tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Verso 2 e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Verso 15 Ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola, il Signore il benedicca, potete accomodarvi. Alleluia. Potremmo dare molti titoli a quello di cui parleremo stasera, così come d'altronde è possibile fare per ogni insegnamento, per ogni sermone che si predica. Il titolo ha solo la funzione di aiutarci a ricordare. E stasera desidero parlare di ciò che può fare la differenza tra l'essere benedetti e non essere benedetti da parte di Dio. A tutti quanti noi piace essere benedetti. A tutti noi piace ricevere una benedizione. Quando qualcuno ci tratta bene, quella è una benedizione. Quando qualcuno ci tratta male, quella è una maledizione. A tutti noi piace essere trattati bene. A maggior ragione a tutti noi piace essere benedetti da Dio. Perché le benedizioni di Dio sono di gran lunga migliori di qualsiasi tipo di benedizione che chiunque o qualsiasi uomo o donna potrebbero darci. Il capitolo 28 di Deuteronomio è interamente dedicato alle benedizioni e alle maledizioni che Dio preannunciò al suo popolo prima che loro entrassero nella terra promessa. Quindi prima che attraversassero il fiume Giordano per entrare nella terra promessa, Dio parlò a loro per preannunciare quali sarebbero state le benedizioni e quali sarebbero state le maledizioni. Quale era la base per essere benedetti e quale invece era la base nel caso in cui sarebbero stati maledetti. Deuteronomio capitolo 28 ha ben 68 versi. Ora qualche versione tipo la nuova riveduta ne ha 69 ma questo non perché hanno allungato il brodo. In qualche versione in base a qual è la fonte il verso 69 corrisponde al primo verso del capitolo 29. Nel caso della nuova Diodati il capitolo 28 ha 68 versi. E poi quello che invece nella nuova riveduta è il verso 69, nella nuova Diodati è il primo verso del capitolo 29. Quindi poca importanza ha se nel capitolo ci sono 68 o 69 versi, non cambia il contenuto, è solo una questione di come hanno disposto l'ultimo verso, come parte del capitolo 28 o come parte del capitolo 29. D'altronde la divisione in capitolo e in versi non è una questione che ha a che fare con il testo originale. Questo è qualcosa che hanno fatto nelle traduzioni per comodità di riferimento. Così è più facile andare a trovare il verso, il brano a cui facciamo riferimento. Proprio come in questo caso se non ci fossero stati i capitoli e i versi avremmo magari dovuto usare il numero di pagine, dire Deuteronomio, pagina, quella che sarebbe stata per essere. Quindi in ogni caso non viene alterato il contenuto della parola di Dio. Ma il capitolo 28, così come stavo dicendo, ha ben 68 versi. Tre dei versi del capitolo 28 sono dedicati a stabilire la base, quelle che noi abbiamo letto. Il verso 1 e il verso 2 è la base per le benedizioni. Il verso 15 invece è la base o la motivazione per cui Dio eventualmente avrebbe maledetto il popolo. I 11 versi sono dedicati alla descrizione di tutte le benedizioni che Dio aveva preannunciato, dal verso 4 al verso 14. 51 versi sono dedicati alla descrizione delle maledizioni, dal verso 16 al verso 68. Qualcuno potrebbe domandarsi come mai vengono dedicati più versi o Dio ha detto più cose in relazione alle maledizioni di quanto invece ne abbia detto in relazione alle benedizioni. A mio avviso è perché è più costoso maledire, è più difficile maledire di quanto lo sia benedire. È più facile essere di benedizione che essere di maledizione. Ma portandolo un po' su qualcos'altro è più facile sorridere che avere il broncio. Si usano meno muscoli quando si sorride che quando si ha il broncio. È più facile, meno muscoli, meno sforzo. Si bruciano meno calorie quando si sorride. Invece quando si va in giro col broncio è come se causiamo al nostro corpo uno sforzo maggiore. Ed è uno sforzo inutile perché noi che serviamo il Dio dovremmo, così come dice la parola di Dio, gioire in ogni tempo. La parola di Dio dice rallegratevi, dico rallegratevi, di nuovo dico rallegratevi. Alleluia. Domenica mattina siamo stati in servizio alla chiesa di Verona con il pastore di Bernard e poi là è il servizio di mattina. La sera siamo andati un po' in giro per Verona e c'erano le porte aperte della sinagoga. Ci sono occasioni particolari quando magari i giudei offrono dei concerti. Nella giornata della domenica c'era un'ora dedicata per chi fosse stato interessato ad andare là nella sinagoga e c'era il rabbino che avrebbe insegnato o avrebbe parlato per un'ora intorno all'alfabeto ebraico, cosa che noi non siamo stati in grado di fare perché abbiamo finito tardi e l'ora quando era fissata per questa lezione di ebraico non è stata conveniente per noi. Però poi siamo andati un po' in giro per Verona, abbiamo visto che c'era la sinagoga aperta. il prodotto di Bernardo ha detto c'è un concerto, magari sta per finire. E quindi siamo entrati, siamo entrati nella sinagoga, era piena di persone, c'erano persone all'impiede, non tutti erano giudei, le porte erano aperte, c'erano dei musicisti ebrei, c'era un violino, un clarinetto, un contrabbasso, un piano, una tastiera, non so esattamente cosa fosse perché non l'ho vista. Hanno cantato diverse canzoni e una in particolare, poi mia moglie mi ha detto che lei ricordò quella canzone perché da ragazza la scuola che lei frequentava il 99%, 98, 98, 99, 97% erano ebrei, lei era parte della minoranza dei gentili, avevano un vantaggio. Facevano vacanza per le feste normali, facevano vacanza anche per le feste ebraiche. Però lei è stata esposta alla loro cultura e ricordava questa canzone, però ieri sera è andata a vedere qual era il significato di quella canzone, di una di quelle canzoni. Era una canzone che esortava all'allegria, esortava alla gioia. E se pensiamo a tutte le cose che hanno patito, che hanno sofferto gli ebrei, tutte le persecuzioni che hanno patito loro, eppure sono continuamente nel corso della storia, hanno sempre trovato il modo, a parte quei periodi bui, quei periodi di esilio, quei periodi di allontanamento da Dio, quando si avvicinavano a Dio in un modo o nell'altro erano interessati a gioire nella presenza di Dio, a danzare nella presenza di Dio, a dare gloria a Dio. Non si può dare gloria a Dio mentre si ha il broncio, non si può dare gloria a Dio mentre si è accruciati, si è tenebrosi. Ed è così come ho detto prima, è più facile sorridere, si usano meno muscoli per sorridere, di quanti se ne usano quando si ha il broncio, quando si ha il muso lungo, quando si è arrabbiati. Oggi il mio amichetto era... Stavo facendo il broncio, l'ho preso in braccio e ho detto guarda ti faccio vedere quanto sei brutto allo specchio quando fai il broncio. Lui era là prima, ha guardato tutto e poi dopo un po' ha cominciato a ridere, ho detto hai visto? Adesso sei più bella. Un bel sorriso ci rende più... più belli. E la ragione per cui Dio ha dedicato molti più versi alla descrizione o a preannunciare le maledizioni è perché voleva che il suo popolo prendesse atto del fatto che è meglio vivere per Dio piuttosto che disubbidire Dio. Alleluia. È più facile vivere per Dio che non vivere per Dio. Vi ho posto una domanda qualche servizio fa che vorrei riproporvi. Cos'è più facile? Dare la propria vita affinché qualcuno viva oppure vivere perché qualcuno ha dato la propria vita per noi. E questo è quello che Gesù ha fatto. Lui ha dato la sua vita per noi. Affinché noi potessimo vivere. Affinché noi potessimo godere della benedizione. Non solo di conoscerlo, ma di vivere una vita che vale la pena di essere vissuta e di poter vivere una vita con la speranza della vita eterna. Ma è importante che noi ubbidiamo la parola di Dio. Alleluia. Leggiamo alcune delle benedizioni. Il verso 3 dice Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Verso 8 Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue impresse. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Verso 12 Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Leggiamo alcune delle maledizioni. Verso 16 Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. In altre parole, il primo verso che abbiamo detto delle benedizioni è totalmente lo stesso, solo che invece di benedetto c'è scritto maledetto. Quello che qua sta dicendo benedetto nella città e benedetto nella campagna, maledetto nella città e maledetto nella campagna, sta a indicare il fatto che non è importanza dove si vive. Quando non si vive per Dio non si possono avere le sue benedizioni. Ma se si vive per Dio a dispetto del fatto che viviamo in città o in campagna, in montagna, a dispetto del fatto che viviamo a Catania o a Canicattì o in qualsiasi... Se noi viviamo per Dio, Dio ci benedice. Ma se noi non viviamo per Dio, Dio non ci benedice. Verso 20 dice il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a cui metterai mano e che farai finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a causa della malvagità delle tue azioni per la quale mi avrai abbandonato. Non dimenticate, qua Dio sta preannunciando queste cose al suo popolo che si sta preparando o ancora non è entrato nella terra promessa, non ha ancora attraversato il fiume Giordano per andare nella terra promessa e Dio li mette in guardia per dire guardate che quello che farà la differenza nella vostra esistenza, nella vostra vita è l'ubbidienza o la disubbidienza, se ubbidite Dio sarete benedetti, se disubbidite Dio sarete maledetti. Verso 54 e verso 55 e qua comincia a venire la pelle d'occa nel leggere quello che Dio aveva già preannunciato al suo popolo nel caso in cui non l'avrebbero ubbidito dice l'uomo più delicato e sensibile tra voi guarderà con occhio malvagio suo fratello la donna che riposa sul suo seno i figli che ancora gli rimangono notate perché quest'occhio malvagio a cui fa riferimento guarderà con occhio malvagio suo fratello sua moglie i figli che ancora gli rimangono verso 55 dice non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli di cui si ciberà perché non gli sarà rimasto nulla durante l'assedio e nell'angoscia alla quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città quindi quello che qua sta dicendo Dio è se tu non mi servi arriverai arriverai alla condizione tragica e comincerai a non fidarti di nessuno perfino non ti fiderai del tuo fratello non ti fiderai di tua moglie non ti fiderai di nessuno perché non vorrai dividere la carne dei tuoi figli che tu mangerai con loro orrendo atroce terribile ma qua Dio sta dicendo giungerete alla condizione in cui sta dicendo a quelli che non lo avrebbero obbedito che l'unica via per sopravvivere secondo il vostro modo di pensare depravato e scorretto e immorale è quello di nutrirvi della carne dei vostri figli è nauseante è terribile è angoscioso ma è quello che Dio aveva detto loro se non mi ubbidite verso 56 e 57 dice la stessa cosa riguarda la donna più delicata e raffinata tra di voi che non avrebbe osato posare la pianda del piede in terra tanto si sentiva delicata e raffinata guarderà con ottio malvagio il marito che riposa sul suo seno suo figlio e sua figlia per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figli che metterà al mondo perché mancando di tutto se ne ciberà di nascosto durante la sedia e nell'angoscia la quale ti ridurrà il tuo nemico nella tua città Dio non avrebbe potuto descrivere una condizione più angosciosa e più terribile ma questo questo non lo fa solo per infatti non lo fa affatto per incutere la loro paura ma è per avvertirli per dire guarda che se invocchi la strada della disubbidienza se invocchi la strada della ribellione se invocchi la strada della vita per viverla a modo tuo ignorando Dio ignorando la parola di Dio ignorando gli insegnamenti di Dio la tua condizione spirituale sarà così estrema sarà così terribile sarà così angosciosa al punto che un padre cercherà di 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 tenere alla larga agli altri per perché non vuole condividere la carne dei propri figli che mangerà una madre guarderà con sospetto per finire il proprio marito cercherà di mangiare di nascosto gli stessi figli che genererà ed è orribile pensare a una situazione del genere la storia ci dice la parola di Dio ci dice che ci fu una situazione del genere in cui le persone le donne mangiavano mangiavano i propri figli ricordate quando ci fu quell'episodio che le donne hanno mangiato prima il figlio dell'una e poi l'altra non voleva darglielo per condividerlo e sono andati dal re per protestare la madre del bambino che era stato mangiato prima andò dal re resi strappoi i vestiti la città era assediata non c'era cibo le persone ricorrevano a tutto per nutrirsi perfino gli escrementi degli uccelli venivano venduti a caro prezzo e la loro condizione arrivò a tale punto a causa del fatto che avevano dimenticato Dio avevano voltato le spalle a Dio avevano ignorato la parola di Dio avevano fatto orecchio da mercante avevano ignorato i profeti avevano ignorato i decreti i comandamenti di Dio e quello che fa la differenza è dichiarato in modo esplicito nei versi 1, 2 e 15 che noi abbiamo letto se ubbidisci diligentemente se ubbidisci con attenzione se ascolti la voce del Signore se non ignori la parola di Dio e non solo quello che ti piace ma tutta la parola di Dio lunedì siamo stati a pranzo a casa del pastore di Bernardo c'erano i suoceri il fratello la sorella Cerami il fratello Cerami a lui piace tantissimo il pesce e ha portato del pesce da Marsala a Verona e grazie a Dio che l'ho fatto perché l'ho mangiato pure io e lui non mette da parte nulla neanche le teste e a me piacciono pure le teste mi piacciono gli occhi del pesce il suono che fa venire la nausea a mia figlia e mia moglie ma cosa ci posso fare gli occhi si possono staccare dalla testa del pesce solo in quel modo tutto tutto quanto lui letteralmente mette la testa del pesce in bocca e riesce in bocca a scartare le ossa le spine da quel po' di carne che c'è e mi diceva la sorella Marcella quando poi loro che vivevano a Marsala e mettevano i resti del pesce in un piatto per per i gatti quando si avvicinavano ai resti del pesce del fratello Cerami il gatto faceva e si girava dall'altro lato perché sapevo che non c'era nulla non c'era nulla da mangiare per lui l'avevo già ben ben ripulito e queste persone si ritrovavano nella condizione di non avere nulla da mangiare vivere in condizioni estreme in condizioni assurde perché avevano scelto di non ubbidire Dio se tu ubbidisci diligentemente non prendendo quello che ti piace lasciando quello che non ti piace quelle rarissime volte che mia moglie mangia un po' di pesce mangiare per lei un po' di pesce a lei non piace il pesce se mangio un boccone in più le fa nausea se io dovessi mettergli il pesciolino con tutta la testa perché quando si cucina il pesce quello è il combido mio ecco perché lo mangiamo solo due volte l'anno a casa la vista della testa già la mette in crisi quindi io quando li cucino taglio le teste le metto tutte da parte e poi mi diletto una volta molti anni fa eravamo con con dei fratelli in un ristorante abbiamo ordinato pesce ci hanno portato il pesce senza testa ho detto e le teste dove sono se le stanno mangiando i camerieri ho detto eh no noi abbiamo pagato e ce le hanno portate subito sapete quelle persone quando mangiano questo lo tolgono quell'altro lo tolgono quando finiscono di togliere tutto quello che non piace la domanda è che cosa hanno mangiato ma quando questo si fa dal punto di vista spirituale eh con la parola di Dio non ci puoi giocare l'apostolo Paolo qualcuno dice vabbè queste sono cose che sono successe nel vecchio testamento e togli il vecchio testamento alla Bibbia ed è come amputarti le gambe non puoi più camminare perché Paolo dice quelle cose ci sono state sono avvenute sono state fatte per essere di esempio e di simbolo a noi per avvertimento nostro non puoi non puoi fare lo schizzinoso la schizzinosa questo ormai è troppo antiquato questo andava bene duemila anni fa questo del vecchio testamento questa è un'altra cultura questo non va perché siamo nel 2016 ormai abbondantemente avanzato abbiamo già superato la metà del 2016 e prima ancora che finirò di parlare scoccherà l'ultima ora del 2016 inizierà il 2017 e questo no questo no questo no questo non mi piace quello non va bene quello è fuori moda e alla fine si ritrovano ad avere un sentiero dove tutto ciò che c'è la propria volontà il proprio pensiero il proprio desiderio Dio è stato mandato in ferie nella loro vita non viene chiamato in causa non viene preso in considerazione poi c'è quello che è troppo pesante a me piace mangiare l'aglio però se so in condizione normale lo mangio quando c'è lo mangio ma se so che devo magari andare in un ufficio un incontro con qualcuno cerco di evitare lo evito ne faccio a meno ma la parola di Dio anche se è qualcosa che non mi piace o che potrebbe sollevare le critiche degli altri io devo preoccuparmi di fare quello che dice la parola di Dio e non devo preoccuparmi delle critiche degli altri non devo preoccuparmi delle critiche del mondo non devo preoccuparmi del fatto di essere deriso da quelli che non servono Dio perché se io faccio della parola di Dio una sorta di pietanza e questo non va a questo non mi piace faccio lo schizzinoso alla fine mi ritrovo in quella triste condizione che Dio aveva preannunciato per il suo popolo aveva dedicato molto più tempo molte più parole a dire non lo fare perché se tu disubbidisci la mia parola se tu non ascolti la mia voce se tu non segui le mie direttive se tu non porgi il tuo orecchio alla voce di Dio ti ritroverai in queste tristi condizioni e Dio non ha alcun desiderio di farci star male lui vuole il nostro bene ma non può farlo in contraddizione con la sua parola ricordo quando c'è stato l'ultima la seconda volta che è stato qui a Catania il fratello Billy Coe la prima volta abbiamo avuto i servizi al Piccadilli la seconda volta credo sia stato nel 92 nel 92 eravamo qua in questa chiesa abbiamo avuto il seminario ministeriale in più abbiamo avuto dei servizi qua in chiesa in uno dei servizi ci furono persone fratelli diversi di voi probabilmente che siete venuti avanti per chiedere al fratello Billy Coe di pregare per voi lui aveva sempre l'abitudine di chiedere qual era la ragione per cui la persona fratello la sorella volesse che lui pregasse per lui e ci fu un fratello che ha detto fratello voglio che preghi affinché Dio mi benedica finanziariamente e fratello ovviamente tutto questo avveniva tramite me interpretavo dall'italiano all'inglese e viceversa fratello Billy Coe ha detto guardando quel fratello ha detto tu dai la decima di e lui ha detto non posso darlo non ci riesco fratello Billy Coe ha detto io non posso pregare per te non posso pregare Dio in contraddizione con la sua parola o quella storia che ho sentito una storia vera di quella di quella donna che si fece avanti chiedendo all'evangelista di pregare per lei perché stava male e lui ha sentito di chiederle cos'è che mangi durante la giornata e quello ha detto nulla bevo solo sei litri di coca cola al giorno ha detto io io non prego per te a meno che tu non decida di cominciare a trattare bene il tuo corpo quello non è alimentazione quello è suicidio a volte noi abbiamo la pretesa di fare a modo nostro e poi chiedere a Dio di aggiustarci le cose secondo i nostri desideri se fai a modo tuo la vita è nelle tue mani e se la vita è nelle tue mani sono guai seri perché noi tutti abbiamo bisogno di Dio alleluia quello che fa la differenza è ubbidire o non ubbidire se ubbidisci Dio è fedele alla sua parola e ti benedece se disubbidisci Dio è fedele alla sua parola e non può benedirti il contrario della benedizione è maledizione sono io sei tu che abbiamo la facoltà di decidere cosa Dio debba fare nella nostra vita nessun altro può farlo a posto tuo sei tu che devi farlo quando questa parola è predicata non da parti le orecchie non fare finta di non cominciare a formulare sì vabbè ma Fusignori murisci e come deve dirtelo se la sua parola non è sufficiente come deve dirtelo pensi che ti manderà un sms Dio non ha un cellulare pensi che ti contatterà via Whatsapp che secondo me dovrebbe essere più appropriato dire Whatsapp Dio non ha un profilo né su Whatsapp né su Facebook né nessun altro posto e non userà neanche il megafono per mandarti un messaggio vocale dall'alto personalizzato non lo scriverà in caratteri cubitali sulle nuvole oppure sul cielo azzurro ha scelto la sua parola alleluia ricevete la sua parola con mansuetudine dice la parola di Dio in Giacomo perché per essa potete essere salvati alleluia nella parola di Dio troviamo la nostra guida troviamo il consiglio di cui abbiamo di bisogno troviamo la direzione che dobbiamo seguire è la luce che ci illumina affinché non imbocchiamo la strada sbagliata o non inciambiamo è la parola di Dio che ci fa crescere nella fede è la parola di Dio che ci educa è la parola di Dio che ci corregge è la parola di Dio che rinnova la nostra mente è la parola di Dio la lettera di Dio per noi per aiutarci ad essere benedetti per metterci nella condizione di essere benedetti alleluia e andiamo dal medico ci prescrive un chilo di pillole e noi le ingoiamo così senza neanche porci il problema perché ce lo dice il medico ce lo dice Dio nel 2016 no è troppo difficile ma i miei colleghi di lavoro mi prenderanno in giro i miei colleghi di università rideranno di me i miei vicini non mi saluteranno ma cos'è più importante avere il favore di Dio o avere il favore dell'uomo cos'è più bello essere benedetti il Signore aprirà per te il suo buon tesoro il cielo per dare la tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani la base verso 1 e verso 2 che noi abbiamo già letto se tu bidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do il Signore il tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le altre nazioni e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio Dio avrebbe così tanto voluto doversi fermare qua e non parlare mai delle maledizioni ma lo ha fatto per avvertire il suo popolo è come dire questa è la strada per andare verso quella destinazione stai attendo perché a un certo punto ce n'è un'altra strada ma se imbocchi quella non arriverai mai a destinazione quindi mantieni la giusta direzione mantieni la giusta strada segui le mie direttive e questo è quello che Dio sta dicendo non vuole spaventarci non ha voluto terrorizzare il suo popolo lo ha semplicemente voluto avvertire per evitare che divenissero vittime delle sue maledizioni piuttosto che essere beneficiari delle sue benedizioni io voglio essere benedetto da Dio tutti quanti noi vogliamo essere benedetti da Dio ma non possiamo se non ubbidiamo è quello che facciamo con i nostri bambini se fai il bravo puoi ti do questo una promessa se invece fai il monello non ti farò giocare o ti do una sculacciata perché lo fate perché vi aspettate che vostro figlio vostro bambino si metta nella condizione di prendere una sculacciata no ogni papà ogni mamma vuole che il proprio bambino sia nella condizione di ricevere la ricompensa il premio la benedizione e questo è quello che Dio vuole per noi la base se tu vivisci diligentemente con impegno con coerenza la parola di Dio Dio ci benedice non dobbiamo avere paura non dobbiamo avere vergogna dobbiamo avere il coraggio di essere dei figli di Dio ovunque andiamo ovunque andiamo dobbiamo avere il coraggio di essere dei figli di Dio e se noi abbiamo il coraggio di essere figli di Dio in ogni luogo in ogni circostanza Dio che è fedele ci benedirà se invece noi scegliamo di non ubbidirlo Dio che è fedele e che non può essere in contraddizione con la sua parola maledirà vogliamo giaccele in piedi la tua azione mi accorge e per te così dolce voglio stare con te gioia in abbondanza c'è nella tua presenza pace e libertà la tua gloria mi trasforma e mi cambia voglio stare con te voglio stare con te